E' qui fuori? Aspetta, aspetta, aspetta Lancio! Cosa lancio? No, mica sono un robot Dispositivo di lancio quadruplo in testa Eschere, si! Arrivato, nooo Rovinano sempre tutto questi piccolini, questi piccolini rovinano sempre tutto Non è possibile Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova fantastica video di Fortnite Ci troviamo nella patch 0.6, no, 0.6.02 Ed è uscito il dispositivo di lancio quadruplo come potete vedere Questa è una nuova arma che è stata appena aggiunta in questo nuovo gioco In questa nuova versione del gioco E vediamo un po' come funziona questo dispositivo di lancio quadruplo Andremo a provarlo qui su parco giochi perché non vedo l'ora di farci tante belle uccisioni Allora cerchiamo subito di comprarlo E cominciamo subito a usarlo Guarda qui quanto è bello E ho venuto direttamente fuori da salvo al mondo E quindi è un'arma che io conoscevo già E anche molti di voi conoscevano già Aspettate Ho sentito qualcuno Aspettate quando si abbassa poi Uh che figata Guardate quanto è bello quando ci abbassiamo Si vede molto molto meglio Comunque È tipo 84 di DPS Fa 84 di danni Poi tira 4 missili velocemente E quindi potrebbe essere un'arma Poi dobbiamo cercare di testarla qui su parco giochi E vedere come funziona Oh oh faccio qualcuno Aspetta aspetta Cosa questo qua si è unito alla mia squadra Che cacchio fa No Ma perché si è unito alla mia squadra Cosa fai tu stupido piccolino Cosa fai Che cosa fai Guardate guardate Che bello Oddio L'abbiamo bombardato Ok è un'arma fantastica È un'arma fantastica Perché distrugge tutto Distrugge tutto quello che incontra Vediamo un po' di testarla contro qualcuno Se non sbaglio c'era qualcuno qui davanti a me Cosa È qui What È da questa parte È qui dentro Facciamole esplodere Facciamole esplodere Dov'è Dov'è Eccolo Eccolo Lo sta utilizzando anche lui Sì Sentite sentite Ce l'ha anche lui Ce l'ha Non ci credo L'ha trovato anche lui Ah non è che l'ha trovato L'ha comprato L'ha semplicemente comprato Cerchiamo di ucciderlo subito E gli rubiamo tutti i missili Ok Questi qua sono i miei missili Aspettate Dove sono i suoi missili Non ci credo Non aveva neanche i missili Cosa Questo qua mi ha rubato pure l'uccisione Ma io non capisco Perché questo piccolino Si è entrato nella mia squadra Forse perché era troppo spaventato Sapete che facciamo Noi cambiamo squadra Perché sinceramente Non voglio giocare con lui Io voglio distruggerlo lui E sapete un po' che cosa facciamo Andiamo dal vendor machine E ne compriamo subito un altro Ora che abbiamo cambiato squadra Possiamo anche cercare Di prenderci qua Tutti i materiali che possiamo Avete visto che stiamo giocando Con la nuova school trooper Perché è stata aggiunta Con questa nuova patch Veramente tanto fantastica What Qualcuno usa i missili Guardalo guardalo C'è il piccolino là sopra Andiamoci subito A comprare un bel missile guidato Vorrei un bel missile guidato Quadruplo Cosa Sta utilizzando la nuova arma Secondo me sta utilizzando la nuova arma Avete visto com'è Wow Allora cerchiamo di utilizzarla Anche noi Sì Andiamo a prendere quel piccolino Andiamoci a prendere quel piccolino Deve essere qui Eccolo Quello non è lui L'abbiamo fatto esplodere quello Attenzione Oh il razzo Però è velocissimo Avete visto Guarda 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 Spara 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 Si è scherzato male Però non fa tanto danno ad aria Avete visto Il missile Non fanno esplodere Quelle persone lì Questi missili A quanto pare E che cacchio Dove sono andati questi Attenzione Attenzione Bomb Fantastico Perfetto Bomb Ucciso What Cosa E' qui sopra E' qui sopra Credo che sia qui sopra Attenzione Il piccolino sta arrivando Sono spaventato Sono spaventato Aiuto Anche se sono uno school trooper Sono veramente spaventato Da quel piccolino Perché c'ha il coso Il lancio Il coso Il dispositivo di lancio quadruplo E mi potrebbe anche far esplodere Vediamo Dov'è che si trova Oh guarda Uh 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 Ci siamo schiantati malissimo Io sono quasi morto Attenzione va Andiamo a comprarci altri materiali Andiamo a prenderci altri missili Giusto Wow 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 Mi sta cercando di dibombardare Andiamoci a prendere altri missili Ok questo coso Questo dispositivo di lancio quadruplo E' veramente divertente Da utilizzare Che cosa Mi vuole fare esplodere Avete sentito Dobbiamo cercare comunque Di concentrarci Mamma mia questa skin qua È una nuova school trooper Che costa anche veramente poco E' veramente una figata Boom Vediamo un po' dov'è Dove si trova E' qua E' qui E' qui E' qui Guarda Uh 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 Fantastico Bellissimo Wow L'abbiamo fatto esplodere Oddio E' velocissimo a sparare Wow wow Dov'è che Dov'è cacchio è Dov'è cacchio è Attenzione E' qui E' qui E' qui Guarda 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 che mi guarda Guarda che mi guarda Attenzione Oddio qua non possiamo modificare Che non è nostro Perfetto Cerchiamo adesso qua di salire E andiamo da questo piccolino Eccolo Uh uh C'è gente c'è gente C'è gente Aiuto Dove sono i razzi Mi servono i razzi Uccidiamo qualcuno Prendiamoci i razzi Va Prendiamoci i razzi Che ci servono Eh ma questi sono scesi Questi qua sono scesi Molto molto in basso A quanto pare Guarda guarda Cosa fa Eh vabbè Non c'è neanche i razzi Cacchio peccato Guardalo Prendiamolo 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 Uh 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 Ucciso 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 Prendiamoci i razzi No Non aveva i razzi Ma non ci credo Cacchio Andiamo sopra Andiamo sopra Dove stiamo andando Non lo so Non so dove siamo andati Però ci siamo salvati la vita E adesso Vediamo di uccidere quel piccolino Ma ci sono due persone Due piccolini Perché secondo me ci sono due piccolini Questo qua c'è una skin diversa Uh Attenzione Aiuto Ma che cacchio c'è qua Aiuto Ma chi è questo Uh 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 Ma chi cacchio era questo Ma che cos'era 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 Non l'ho capito Era super Non l'ho capito Un piccolino che volava ed è esploso malissimo Va bene Quegli altri sono ancora là sopra What 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 Non è qui sopra È qua Che cacchio dico È qui cacchio Oddio Avviciniamoci Avviciniamoci Wow No C'è lanciarazzi Ho visto che c'è un lanciarazzi Lo sbaglio Un lanciarazzi Oddio No Che cacchio Questi piccolini Mi vogliono sempre ammazzare È una cosa pazzesca Entriamo qui E aspettiamo Fantastico Pacchetto munizioni Sì, eccolo, veloce, veloce Carica, carica, carica Facciamoci esplodere, eccolo, è lì fuori E qui fuori, aspetta, aspetta Aspetta Lancio, cosa lancio? No, mica sono un robot Dispositivo di lancio quadruplo in testa E schiere, sì Arrivato, no Rovinano sempre tutto, questi piccolini Questi piccolini rovinano sempre tutto Non è possibile Mi sto divertendo veramente tantissimo a giocare con questi ragazzi Con questo nuovo dispositivo di lancio quadruplo Non vedo l'ora di riprendermelo Questo qua si è fatto una cosa shopping Allo shopping si è fatto, ok Guarda, guarda, guarda Non ho completato lo shopping È morto prima, sì Sì Perfetto, prendiamoci questo Non voglio fare la sua stessa fine Quindi nascondiamoci qui da qualche parte Ok, adesso ci possiamo recuperare Tutta la vita e tutto lo scudo Eccolo che è ritornato Che cosa crede di fare? Cosa? Cosa crede di fare? Wow, wow Mi vuol far esplodere Attenzione, usciamo, usciamo Usciamo Wow, wow Wow Attenzione Dov'è? Eccolo È veramente potentissimo Questo missile guidato Wow C'è questo dispositivo di lancio quadruplo Pazzesco Pazzesco Ricarichiamo Ricarichiamo Perfetto E adesso qua cerchiamo di verci questo shield Fantastico È veramente una bomba Allora, uno ha riscuitato Come potete vedere Quello lì Cos'è? Cos'è che fa lì? Guardate, guardate Mamma mia Oddio Sembra un car armato Wow Questo qua lo metteranno nel volto In due secondi Ve lo assicuro Da quanto è potente Da quanto è potente Wow, wow, wow Guarda Guarda quello No Aiuto Sto cercando di fare qualche trick shot Qualche bella kill Con qualche trick Giusto per divertirmi di più Ma è difficile È molto difficile Però avete visto Che butta giù le costruzioni velocemente Quindi con quest'arma Se qualcuno vi fa una build Batto davanti Voi gliela buttate giù in due secondi È una cosa fantastica Quindi è veramente potente Contro le costruzioni quest'arma Ma contro le persone invece È leggermente Leggermente Meno OP Perché dovete per forza Beccarle in testa Come prima Dovete proprio beccarle E centrarle Se non le centrate Allora fate fatica Ad uccidere qualcuno Perfetto Questo è sopra di me Sì È sopra di me Perfetto Aspettate Mi sta cercando Mi sta cercando Andiamo qui Andiamo qui Cerchiamo adesso Di stare attenti Perché questo È qua che mi sta aspettando Aiuto Aiuto Guardalo 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 che lo faccio esplodere Dov'è andato Eccolo È qui sotto È qui sotto Guardate che è spaventato È spaventatissimo Da questa arma Nuovissima Eccolo Prendiamolo Prendiamolo Wow 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 Fantastico Vedete Vedete Se è spaventato Lui Di questa arma Allora Probabilmente Qualche cosa La fa Qualche cosa La fa Qualche cosa Lo fa Sicuramente potrebbe Shottare abbastanza Da spaventarlo Tantissimo Ok questa arma Mi sta piacendo Tanto Perché tanto Mi piaceva già Ai tempi Di salva Al mondo E quindi Sono contentissimo Che l'hanno rimessa Qui in questa Qui adesso L'hanno messa Qui sulle Battle Royale Ma ho paura Che la toglieranno Subito Perché leggermente C'è qualcuno Che mi sta sparando Solo che non ho capito Chi è Chi è Che mi spara Chi è che mi spara Qua ci sono Gli razzi Gli razzi No Non ci sono Gli razzi Aiuto Niente razzi Niente razzi Deve esserci C'è Qualcuno qua Che mi sta guardando Wow wow Atonsio 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 Questo qua Che mi sta sparando Deve essere Super super Arrabbiato Entriamo qua E cerchiamo I missili I missili Eccoli Trovati La ricarichiamo E cerchiamo Di bombardare questo Dove è andato È andato da sopra What Cosa C'è qualcuno qui Dov'è Eccolo Eccolo Fantastico Perfetto Guarda Guarda Wow Wow Attenzione Attenzione Wow Vedete Vedete che non l'ho ucciso Sapete perché non l'ho ucciso Perché dovevo beccarlo in pieno Ecco perché Se tipo non li becchiate in pieno Con i razzi Allora non li fate danni Invece con i lanciarazzi Potete fargli danni Anche se tipo Li beccate vicino Perché Ovviamente il missile del lanciarazzi Fa il danno ad aria E quindi esplodete ugualmente Invece qui non è così Attenzione Attenzione Wow Wow È il piccolino È il piccolino Ma che cosa vuole Il piccolino è tornato Perfetto Uh No No Non ho preso il rampino Come cacchio ho fatto a non prendere il rampino Attenzione Questo mi segue Mi segue Mi segue Aiuto Scappiamo Rimaniamo qui Rimaniamo qua E recuperiamo tutta la vita Sì ma questo arriva Non ci posso credere È arrivato Non ci credo Oddio Questi qua sono dei mostri Sono dei mostri Sono io il mostro Ah ma quanto pare Devo essere io il mostro Visto che c'è lo school trooper E invece no Questi si stanno comportando male Si stanno comportando peggio Dello school trooper Peggio Allora quelli l'ho Quello lì Quelli l'ho Quelli l'ho Wow L'italiano che c'ho stamattina è perfetto Comunque Qua avranno lasciato No Il piccolino si è rubato il coso Il piccolino si è rubato il dispositivo di lancio quadruplo Come ha usato È un'arma secreta Non poteva rubarla Adesso dobbiamo riprenderlo di nuovo Quel piccolino è fissato col mio dispositivo di lancio quadruplo Appena muoio me lo va a rubare Invece l'altro è meno Il più intelligente Infatti Non prova neanche a rubarmelo È qui È qui È qui È qui Non è lui Non è lui What? Wow wow Attenzione Attenzione Sete 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 Ho fatto sette Ho fatto sette Quanto sono storto con la mira Se ho fatto sette Pazzesco Oh Adesso mi riprendo tutto Avete capito? Mi riprendo tutto A parte che adesso mi bevo questa cosa qui Questa braccia leggendaria No Ce la beviamo Non ce la beviamo No Non ce la beviamo Non ci serve adesso Ci servirà un po' più Più avanti Adesso dobbiamo trovarci dei missili Belli belli Per questo dispositivo di lancio quadruplo Perché se no Non ci divertiamo abbastanza Wow wow Eccolo eccolo Sono qui Sono qui Spacchiamo quello Spacchiamo quello Perfetto Adesso non può più scappare questo Non può più scappare Dove Dove scegli? Dove scegli? Ma sapete che faccio? Me ne vado A comprare un bel dispositivo di lancio quadruplo Non prendo quello Ne compro addirittura uno Così mi danno anche i missili Mi danno i missili Inclusi nel prezzo Sì è proprio qui sotto Andiamo qui sotto E lo compriamo Perché questo video è incentrato Sul dispositivo di lancio quadruplo Quindi non ha senso stare qui A cercare di fare le kill con altre armi Non ha senso per niente Ok gli abbiamo cuoresi due Abbiamo otto Otto missili Guardalo Si trova là sopra Si trova là sopra Sì Sì Guardate È morto È morto Oddio Mi sono fatto espondere con lo stop Avete visto che i missili non vanno così tanto lontano Attenzione No cacchio Che cattivo Ah c'è il suo amico C'è il suo amico Guardateli Chiude in bellezza con un bang No Non ci credo Abbiamo scoperto un'altra cosa con questo gameplay A quanto pare i missili non vanno tanto lontano come il lanciarazzi Interessante Sembra essere leggermente bilanciato questo dispositivo quadruplo di lancio Infatti pensavo che arrivavano fino in fondo Invece no Già cadevano Già cadevano e perdevano di potenza Ok quelli stanno facendo team con gli schifoici Va bene Va bene così Sinceramente sono contento Così almeno non rage quitano Si divertono di più E io posso fare altre Altre belle kills Però dobbiamo qua adesso cercare Di trovare un modo per andare subito Tipo al negozio Senza che mi ammazzino questi due Guardate 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 No no Dove è cacchio è il negozio È qui il negozio Andiamo a prenderlo Eccolo Aiuto No Perfetto Perfetto Ok Eccolo Guarda guarda Aiuto No è qui Oh è qua Attenzione Dove è l'altro Eccolo Non ci credo Aiuto No 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 Perfetto Mi sono quasi fatto ammazzare Ok Piano piano Prendiamoci questo Prendiamoci questo Così ne abbiamo altri due Wow Ok ucciso Ucciso Dai No Ucciso Non ho avuto il tempo di sparare quel razzo Wow Allora ci mette un bel po' a sparare il razzo Infatti era leggermente più veloce il pompa Infatti stavo per tirare l'ultimo razzo Solo che tipo mi ha fermato perché mi ha ucciso Wow Uh ma sta ballando Non ci credo Sta veramente ballando questo A quanto pare non è più interessato a fightare Perfetto Cerchiamo di farlo esplodere Cerchiamo di farlo esplodere Volevo facciamo esplodere Maschina e facciamo esplodere Vediamo un po' di far esplodere proprio tutto Perché voglio testare la potenza di quest'arma Che è veramente fantastica E niente Comunque il video finisce qua Perché ormai tanto hanno risquittato tutti Spero che questo video vi sia piaciuto Raggiungiamo i 3000 mi piace Per un prossimo fantastico video Iscrivetevi al canale Premendo il tasto Iscriviti così supportate questa fantastica serie Non vi perdete questi bellissimi video E vediamo un po' dove si sta nascondendo quello Perché deve essere qui da qualche parte No Ma che cacchio Eccolo Eccolo Si trova da questa parte Si trova da questa parte Guardalo che mi vuole fare lo scope Infatti poteva anche farlo Poteva anche farlo Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo dispositivo quadruplo di lancio E ci vediamo a un prossimo video Ciao ciao